li puoi avere tutti e tre al prezzo di 25 euro mentre negli store sono venduti a circa 65 euro secondo me è un affare formidabile anche perché acquistandoli avrai diritto a ricevere gli aggiornamenti che sicuramente farò perché li voglio tenere perfettamente in forma e al passo con i tempi grazie